Siete pronti ragazzi? Pronti per questa meravigliosa sfidata, per questo meraviglioso pomeriggio? Tutti e tutti insieme, io sono veramente molto 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 felice, molto onorata di essere qua con voi Ok? A rappresentare giustamente tutti Della MIWA Cartoon Street Band Ripassiamo perché bisogna ancora entrare in circolo, enfasi d'applauso Siamo! 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 bellissime ember, che avete fatte completamente da loro veramente complimenti. Io non sopprei da che parte cominciare, perché al mio abito, ma meno male ci sono loro. Quindi se dovessero avere bisogno... Posso votare. Ci sono i nostri addetti in giro per il percorso, che vedranno le faccelle per cui dovremmo usare la tematica dell'Italia. E quindi... E' un film! E' un universale importante! Ovvero il cinema di casa nostra. Ovvero... Secondo me l'ha avuto un cucerimento. Lo svegliamo dopo dai, lo svegliamo dopo. E quindi salutiamo il secondo camerigana. Un giorno di festa, il gruppo amicina. Gruppo amicina. Lo aiutato dal gruppo di mare. Eeeh, dentro il sangue, nel sangue! Unjśćori 5 bro数 di Lacazio, pecinkarellataэ Harley. Una scusa di Volta al infatti, nessun crunch! Tiii nato, legile mundo... Eilie di上 canale, orate to the world of us Inizare le tueghe, sul digitale Il gruppo di nuovo amicina Applerolling sui Segretamente il riffrae, parla suningsuri di più di depo e quindi che gruppo di nazioni ciao ragazzi che è uguale di San Bernardino qualche modo di salutarvi e di scrivere bene di cosa parla il vostro caldo grazie